Per la via della conoscenza Tu hai detto che ogni medianità ha la sua specializzazione. Puoi fare un esempio? Commento La comunità per la via della conoscenza, ad esempio, attraverso Attilio Masiero, con le comunicazioni dell'entità pontificale, dell'entità soggetto e ultimamente di una voce, ha la specializzazione di scardinare l'importanza esclusiva della mente. Allora, che senso ha creare una gerarchia tra le varie fonti sapienziali che esplorano, ognuna, un aspetto dell'assoluto? Grazie. 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 Grazie.